salve a tutti amici di transformers da just luca di autorobo.it e benvenuti a una nuova video recensione di transformers solo che oggi parliamo di kingdom tutta non solo dei singoli pupazzetti giocattoli della punto della linea di giocattoli generation che sta uscendo quest'anno ma proprio della serie animata terza parte appunto della trilogia war for cybertron appunto omonima che è uscita su netflix nei mesi precedenti e giusto ieri almeno quanto sto registrando io appunto insomma in questi giorni è finalmente uscita anche la terza parte appunto su netflix concludendo questa trilogia e questa trilogia che però era iniziata non proprio bene come ho potuto dire nelle appunto dei video commenti precedenti di siege appunto prima parte ed earth rise dato che per certi versi era un po troppo diciamo un po troppo pretestuosa come storia a livello a livello di storia di trovata e tutto un po troppo noiosa pretestuosa e tante altre cose non proprio simpatiche diciamo come poteva essere fatta meglio insomma come serie a cartoni animati dei transformers cosa che per fortuna non posso dire del tutto di questa terza parte di kingdom che finalmente ha qualcosa di decente da proporre da dire e praticamente sono le cose che in teoria parebbero più incasinate ma andiamo con ordine allora kingdom appunto come la linea di giocattolo omonima presenta i beast wars bio combat da noi per l'occasione del 25 enale fa questa sorta di fusione fra i classici g1 presentati inizialmente in war for cybertron e in qualche modo in qualche modo diciamo nei giocattoli una cosa un po forzata a vedere oltre ai g1 diciamo anche i beast wars anche nella stessa stazza nella stessa diciamo scala ma vabbè con un altro par di maniche e vista le trame appunto di com'era iniziata appunto siege ed earth rise parebbe un po troppo calcata questa storia appunto di fare incontrare i g1 che i beast wars per g1 ovviamente intendo i transformers più classici che riccheggiano per aspetto personalità eccetera insomma i classici transformers della del 1984 al 1990 e rotti insomma dato che comunque beast wars e la g2 dal 92 circa e beast wars appunto 25 enale è del 96 date a parte insomma diciamo farebbe un po strano e invece la cosa più interessante che anzi è proprio prende diciamo nei primi tre episodi vedere interagire i beast wars i g1 e beast wars insieme non è per i fan anche soprattutto della serie anche appunto di beast wars che aiutò proprio a far rinascere il brand dei transformers di nuova spinta con il lancio appunto di questi trasformer di questi robot che diventavano animali dall'aspetto organico insomma sebbene un po le cose diciamo non vengono spiegate del tutto il discorso dell'incontro di perché ci siano i beast wars su questo pianeta che appunto è la terra e alla fine la storia dei beast wars che sarebbe il fatto che sono i discendenti i maximal predacon sono i discendenti di autobot e decepticon che tornano nel passato la storia non viene tradita non sono robot a caso che si trovano lì ma sono effettivamente anche loro a proposito spoiler scusate mi stavo dimenticando questo commento purtroppo purtroppo diciamo avrà dovrà parlare gioco forza gli avvenimenti che accadono e quindi attenzione spoiler dicevo appunto la trama la storia di beast wars è molto abbastanza fedele nei canoni appunto che la contrarrestingue ovvero il fatto che maximum e predacon sono effettivamente i discendenti anche anche loro di autobot e decepticon e si trovano a tornare indietro appunto nel passato di questo pianeta a terra dove appunto inseguendo sempre i maximal inseguono megatron e i suoi predacon lo inseguono dopo che ha rubato anche lui come il megatron classico il disco dorato questo disco dorato anche qui contiene un messaggio di megatron g1 ma non solo un messaggio proprio un discorso proprio tutto quello che sa megatron del futuro è scritto tutto quello che serve sapere a megatron insomma è scritto su questo disco quindi basta seguire cosa dice infatti praticamente megatron e adesso torno anche parlo subito megatron beast wars però non fa una bella figura nel senso che è troppo una sorta di fangirl potremmo dire un fanboy insomma anche sì di megatron g1 nel senso che appunto se il megatron beast wars pareva voler seguire sì l'eredità di megatron g1 questo qui però aveva comunque un suo piano aveva una sua dignità potremmo dire questo qui è abbastanza zerbino verso il nostro megatron qui e vabbè quindi non non brilla di luce propria sebbene sia comunque bello rappresentato bene a livello anche appunto del tirannosauro parentesi megatron poi il discorso appunto di me dei biswars che si scontrano con con gli auto allora scusate deserticon e predacon e ok vanno tra luce vino mentre inizialmente optimus primal sembra un po troppo rancoroso arrabbiato potremmo dire vabbè i suoi motivi anche lì non è che c'entra proprio il personaggio classico vabbè anche lì non è proprio il massimo come scusate come sceneggiato diciamo però diciamo che ha un perché per essere arrabbiato per scontrarsi inizialmente con con optimus prime lo chiama nemesi poi scopriremo il perché però diciamo che lo scontro iniziale ci sta ha un suo perché ha spiegato una certa maniera quindi diciamo che comunque ripeto vedere comunque g1 e biswars che interagiscono insieme fa sempre un certo effetto a parte discorso della scala ma vabbè quella è proprio il minimo il fatto che in teoria biswars dovevano essere grandi come delle becce rispetto ai optimus primal in compagnia ma visto che non hanno modalità alternative terrestri ma li sono piccoli loro per dire vabbè ma questa è una cavolata allora poi nel specifico della trama viene detto che optimus primal è da parecchi cicli su questa terra che combatte contro megatron è partito con 200 maxima di equipaggio sono ribasti in 5 vabbè dopo quello è un discorso della trama stai a vedere che magari non sia una sorta di probabile indizio per qualche eventuale serie prequel che appunto parla del passato di questo di questo di questi di questi di questi biswars insomma ispirati alla trama di siege che in effetti non sarebbe neanche stato male pensarci a farlo a per una serie a fumetti piuttosto che fare quella cavolata che stanno facendo foto foto copiata malissimo dalla serie cartoni nei fumetti di in questo momento ma vabbè con un altro discorso dinobot abbiamo anche dinobot che anche lui è tratteggiato in maniera un po' non è proprio sicuro della sua alleanza con megatron poi vabbè ci ha messo non so quanti cicli per pensarsi non è tanto sicuro eccetera eccetera diciamo che va incontro anche lui a una fine simile a quella classica del personaggio però è giostratta non è proprio così ai suoi momenti sì per carità ai suoi momenti su ai suoi momenti giù come descritto però diciamo che è orchestrata decentemente sempre rispetto abbastanza rispettosa al personaggio e della funzione che ha nella trama furto disco dorato abbiamo detto disco dorato al silo detto cos'è sto leggendo gli appunti che mi sono fatto ah sì anche interessante black arachnia la partnership fra black arachnia starscream e anche dinobot poi un starscream che è anche una black arachnia che appunto fanno vanno a braccetto per il discorso di tradire appunto il loro megatron però dopo anche starscream a modo suono ha una sua evoluzione che non è neanche troppo malvagia nel rispetto di essere appunto vede la luce a un certo punto letteralmente potremmo dire abbiamo detto la morte di dinobot poi i tre episodi insomma ripeto i primi tre episodi iniziali sono belli pregni questa ricerca dell'or spark adesso poi ci parla anche su questo però gli avvenimenti si susseguono non ci si annoia in questi primi tre episodi sono filati via molto bene ripeto anche la spiegazione del ritorno nel passato dei maximal per colpa di optimus prime dopo ci torniamo a questo optimus prime di nuovo insomma i primi tre episodi prendono parecchio non sono male ricerca dell'or spark tra l'altro ecco una cosa fa un po' da ridere fa un po' ridere il fatto che l'or spark sia appunto lì sulla terra e maximal sono da mille mila cicli là tanti cicli dicono cicli come unità di misura del tempo insomma e non si sono mai accorti che c'è l'or spark sulla terra l'or spark sulla terra non è che sia semplicemente nascosta così introvabile fa tutto un discorso che sul pianeta che si manifesta di suo già modificando l'ambiente e tutto quindi non è che questo è un buco di trama bello grande potremmo dire il fatto che si meravigliano i maximal i predacon che magari il predacon no però i maximal si meravigliano che non ci si che il l'or spark sia lì su quel pianeta laddove appunto impossibile che non abbiano setacciando mari il pianeta un po' alla volta non hanno trovato questa zona che era che aveva questi picchi di energia strani eccetera che modificava l'ambiente cioè vabbè facciamo finta che si sono svegliati così con questo l'or spark introvabile allora quarto episodio però purtroppo c'è un po di discesa nel senso che con il discorso che trovano l'or spark ci sono momenti onirici con l'or spark che si manifesta in personaggi morti visioni cose un po non mi vergogno a dire che ho preso letteralmente sonno ovviamente stavo vedendo questo episodio ho dovuto riguardarlo un attimo più tardi perché era davvero abbastanza incasinato dopo c'è la scena che optimus prime deve dare la matrice a megatron per fare in modo che finalmente gli dà la matrice che matrice che fa su e gioia megatron se la toglie se la mette non sa neanche lui cosa farne in questa matrice a certo punto gliela ridava dentro la camera e viene colto da un anche lì da un'altra visione così e finalmente ottimo i due optimus poi possono entrare vabbè un po incasinato a quel momento a certo punto però alla fine trovano l'or spark e l'or spark anche lì sta morendo eccetera eccetera allora via partiamo subito su cybertron e si passa il quinto episodio che c'è appunto anche lì per fortuna si ritorna un po di movimento lo scontro tra la nemesis l'astronave nemesis e l'arca diciamo l'arca che ha ragione d'essere che si trasforma nel ovviamente ho già detto all'inizio occhio gli spoiler si trasforma nel robot nel titan che appunto ed ha un senso al titan all'uscita del titan quindi ci sta bene anche questo a proposito tornando un attimo indietro sul discorso dei maximal c'era appunto il discorso della presenza di tanti tutto il classico di maximal che praticamente compare anche in kingdom e c'è una comparsata anche di scorpion che tra l'altro dato che al momento pare che gli unici predaconsiano i megatron black anachnia e dinobot ma c'è che scorpion anche se fa il soldato generico vabbè dicevo per fortuna questi maximal compagno parecchio dato che tornando a vedere earth rise alla fine di earth rise come personaggi effettivi comparivano davvero abbastanza pochi di quelli della classe lì della classe della linea effettivamente uscita dato che purtroppo è stata gestita malissimo earth rise a mio avviso mentre ripeto questo kingdom anche proprio a livello di personaggi anche anche vari personaggi si trasformano abbastanza spesso si vede anche ci sono cambi di scena che sono già trasformati vabbè ma tante anche a tante altre volte si trasformano effettivamente quindi non è male per esempio i personaggi sono presentati bene anche i maximal sono abbastanza ben descritti classicamente dato che diciamo funzionano alla base riproponendoli così come sono sono vincenti diciamo proprio diciamo ripeto appunto bello comunque tornando al discorso dell'arca che compare appunto nella linea di giocattoli titan da un senso che compare anche l'arca in modalità di robot anche se abbastanza brevemente però c'è e quindi poi c'è anche il discorso di ripeto dirà di starscream che si ridime potremmo dire un po' anche situazioni con black ragnar si tradimento non si capisce cosa voglio fare eccetera eccetera ma alla fine porta avanti la sua agenda black arachnia diciamo ma più che altro poi starscream si ridime bella quella scena che porta il disco dorato a bumblebee e bumblebee lo spezza perché lui è quello figo il bumblebee figo arrabbiato ribelle e allora spezza il disco dorato sono fatti un mazzo così a a portarlo avanti e cercarlo così e lui arriva lo spezza perché sì il futuro ce lo facciamo noi cavolate sì ma vabbè proprio un balbo bumblebee da da picchiarlo proprio da quanto antipatico e quanto è scemo optimus prime di contorno dato che davvero passiamo appunto al sesto episodio dove appunto fa ridere anche lì il discorso optimus prime prima nell'intro dice bumblebee fai cosa ah sì tra l'altro scusate torno un attimo indietro optimus prime dice nel secondo terzo episodio dice ai bumblebee se non se non ce la farò guiderai tu gli autobot cellule cioè vabbè proprio il prescelto di essere di guidare gli autobot vabbè lasciamo perdere e appunto all'inizio del sesto episodio c'è il discorso di bumblebee che tanto per cambiare contraddice gli ordini optimus prime perché lui è quello che è stato preso dai piani la di vector sigma cos'era di alpha trio alpha trio e allora si permette appunto di dargli del scemo qui lui stesso a optimus prime vabbè una roba che fa ridere ma infine appunto il finale è un po banalotto però torniamo un po abbassiamo di nuovo l'entusiasmo il finale finalmente si palesa appunto questo nemesis prime che sarebbe la versione futura corrotta da unicron così come appunto galvatron è la versione famosa di saputa di megatron anche lui riprasmato da da unicron salta fuori unicron ovviamente e quindi appunto questo finale un po così con questi due cioè oddio non è neanche anzi non è male il discorso che tutti poi si uniscono anche autobot e maxima predacon e deseptico insieme contro galvatron e nemesis prime anche per far inservire diciamo megatron qui che all'inizio è tentato di seguire i piani di galvatron però alla fine la battaglia finale davvero tirata via galvatron e nemesis prime scompaiono così via e poi pace fatta l'auspark grazie bumblebee viene riattivato cyberton di colpo tutto bel tempo cyberton che prima dedicava vabbè e poi pace tutti amici tutti vanno via così colla cioè sarebbe stato diciamo un po interessante se ci fosse stato una sorta di sacrificio di qualcuno di optimus prime magari una cosa no forse era già stato fatto su prime wars mi pare sì sì o anche già su no ma in effetti è già stato fatto anche su prime sì su anche su prime beast hunter che però effettivamente questo optimus prime avrebbe dovuto sacrificarsi dato che da come si comporta che ha fatto la scelta scellerata di gettare il loro sparco via che tutti appunto gli dicono di tutto ogni volta e lo maledicono per aver gettato via lo sparco fatto tutto quel casino e anche appunto il futuro di maximum predacon è colpa sua eccetera eccetera avrebbe avuto senso se si sacrificava in qualche maniera oppure se qualcuno o anche megatron si sacrificava anche lui visto per per far sfidere che effettivamente era buono che sotto sotto per quanto aveva fatto tante di quelle cavolate che metà basta anche il netterize vabbè si sacrificava magari megatron per dire alla fine sono avevo ragione io sono buono mi sacrifico pace per tutti invece no dalla luce vigno tutti si salutano tante buone cose di 7 con di qua e 8 botti di là non c'è un po scopiazzando qualcosa come visto in cyberverse però questo megatron a quello di cyberverse gli allaccia non gli allaccia neanche le scarpe praticamente tanto per dare appunto ancora un po di credito appunto a cyberverse come serie cartoni matti però diciamo ripeto al finale un po aperto con unicron non si capisce cosa vuoi fare che a fine salva un galvatron e nemesis prime per poi rimangiarseli di nuovo vabbè diciamo perdere vabbè alla fine ripeto almeno c'è stato qualcosa di interessante con con i biswars nei primi tre episodi e quindi per fortuna un po si rialza questa serie ripeto rispetto a come la partita malissimo con sig e altra is qualcosa appunto appunto finalmente si salva perché perché hanno cercato hanno buttato dentro l'elemento diciamo più per dare un senso ai biswars ai giocattoli biswars e quindi insomma alla fine diciamo un po salvo finalmente questa ha avuto questa trilogia ha avuto un finale abbastanza che ha salvato un pochino almeno la visione finale ripeto grazie al discorso al lato più giocattolesco del del brand piuttosto che non andare a farsi le seghe mentali scusate la parola che i dilemmi mal riusciti di megatron di optimus e via così grazie quindi per aver visto questa mia video recensione fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo su autorobo.it